45.000 euro stanziati dal comune di paese per aiutare le famiglie più in difficoltà a pagare le bollette del gas. Non riusciremo ad accollarci l'intero importo ma cerchiamo di limitare l'impatto delle prossime fatture, spiega il sindaco Cati Uberti. Un buono per aiutare i cittadini a fronteggiare le spese del riscaldamento che avrà modalità d'attuazione ben precise. Nei primi 70 nuclei familiari riceveranno un buono di 400 euro e dal 71esimo nucleo familiare in poi fino ad esaurimento risorse 250. Sappiamo che non è molto però in un contesto di questo tipo riuscire a stanziare 45.000 euro proprio con la finalità di coprire in parte anche quelle che saranno le spese di riscaldamento ci sembrava una cosa fondamentale per le nostre famiglie. Una prima risposta alle sempre più crescenti richieste d'aiuto che arrivano ai servizi sociali del comune. Dicono guarda non pagherò l'affitto, non pagherò il mutuo perché comunque i tempi sono molto più lunghi per sfratti, morosità eccetera. Però le utenze dobbiamo comunque far fronte. Una situazione che rischia di aggravarsi nel periodo invernale per aziende e famiglie con i sindaci che tentano di stare accanto ai propri concittadini initaliando laddove è possibile le spese comunali. E così anche le luminarie e natalizie diventano un lusso a cui rinunciare in un momento come questo. A Breda fino allo scorso anno le luci venivano noleggiate per queste festività, ammette il sindaco Mosere, non ce la sentiamo di affrontare una simile spesa. L'anno scorso sono stati stanziati 5.000 euro. Quest'anno qua onestamente stanziare 5.000 euro sapendo che questi potrebbero essere tranquillamente destinati a chi è in difficoltà. ci stiamo ragionando ma personalmente non so se me la sentirei. Ma non faremo finta che non ci sia Natale perché è uno dei periodi più belli dell'anno e soprattutto adesso simbolo di speranza continua il sindaco che sta valutando forme alternative di addobbi magari con l'aiuto delle scuole e delle famiglie. Io credo che, ripeto, ci confronteremo comunque con la cittadinanza perché questa è la nostra intenzione. credo che si possano trovare delle soluzioni alternative con comunque addobbi, ad alberi, addobbi in generale e cercando di non impattare su quelli che sono i costi.